e buongiorno a tutti amici di matto scacco apriamo la giornata con una notizia bomba questo ragazzino indiano kaushik otto anni diventa il più giovane ad aver mai battuto un grande maestro nella storia degli scacchi a tempo lungo questa è la notizia che è apparsa proprio oggi sulle news di chessbase qui c'è l'intervista se volete leggere è molto carina a me mi ha colpito molto a me non si dice però a me ha colpito troppo la parte in cui si parla della routine la leggiamo insieme poi andiamo a commentare questa partita che secondo me è stata veramente veramente feroce dice che trascorre circa due ore dopo il ritorno da scuola impegnandosi con soluzioni di scacchi una fa poi fa una o due partite rapido online alcuni enigmi di tattica da libri presi dai suoi allenatori e poi si gli piace guardare le partite dei gm nei tornei online durante il fine settimana trascorre 6-7 ore tra allenamenti sia individuali che presso programma di allenamento nazionale della federazione scacchistica di singapore poiché si è trasferito lì con la famiglia ce la posso fare e alcuni giochi di allenamento sulla scacchiera ogni mese i suoi genitori mirano a fargli fare uno due open tornei aperti che spesso comportano viaggi all'estero insomma ci sono tutti i presupposti per una grande una grande ascesa vediamo chi è invece il suo avversario il suo avversario è il grande maestro polacco Stopa Jacek spero di averlo pronunciato bene è del 1987 e purtroppo ultimamente le cose per lui dal punto di vista degli scacchi standard non stanno andando benissimo infatti il suo punteggio è sceso sotto il 2400 e possiamo vedere addirittura i progressi qui c'è le statistiche in azzurro parliamo del punteggio standard dove nel 2015 raggiunge una vetta di 2544 punti per poi purtroppo avere una caduta possiamo dire quasi costante del suo punteggio massima massima solidarietà per questo grande maestro che oggi ha a che fare con nuove leve nuovi ragazzini fortissimi e probabilmente c'è questa inflazione di elo e quindi stiamo aspettando tutti marzo che la fide farà queste modifiche sui vari punteggi ma adesso direi che è il momento di andare a vedere la partita con il bianco il nostro ragazzino Kaushik con il nero il grande maestro che purtroppo ultimamente non è molto in forma Stopa andiamo a vedere la partita e 4 d6 difesa moderna o difesa filidor si può trasformare dopo i 5 da parte del nero d4 cavallo f6 cavallo c3 è diventata a tutti gli effetti una filidor strano per un grande maestro vedere una difesa che oggi non si vede più giocare ad alti livelli ma ha il suo perché questa difesa se vuoi imparare a giocarla sulla Matto Scacco Academy abbiamo un corso completo su come giocare la difesa filidor realizzato dal candidato maestro fide Luca Ballotti che la utilizza nelle sue partite battendo anche giocatori fortissimi all'interno del corso mostra anche le sue partite, i suoi piani di gioco eccetera eccetera alfieri e7, arrocco corto, arrocco corto perché questa apertura è così forte se vogliamo? perché nessuno ha un repertorio contro la filidor nessuno col bianco sa cosa giocare contro la filidor si, si giocano le solite cose, si mettono i cavalli al centro si sviluppano gli alfieri, si mettono i due pedoni centrali ma nessuno sa cosa fare contro questa maledetta difesa h3 per il bianco, c6 per il grande maestro e a4 per evitare ulteriori espansioni sull'ala di donna a5 andrò molto velocemente perché fin qui la partita è molto tranquilla le mosse possiamo dire che sono mosse abbastanza naturali quindi non c'è granché da dire h6 da parte del nero, alfiere in a2 torre c8, alfiere in e3, tutto tranquillo alfiere f8, questa è una mossa tipica il motore vede sempre cose migliori ma queste sono manovre tipiche donna d2, donna in c7 cavallo in h4 arriva quindi l'idea da parte del bianco di acquisire questo avamposto ricordiamoci la definizione di avamposto è un nostro pezzo posizionato nella metà campo avversaria e una volta che il nostro pezzo si posiziona in quella casa non potrà più essere scacciato via da pedoni perché immaginati un cavallo in f5 non può essere scacciato da pedoni perché se il nero spinge il pedone g7, g6 poi andiamo a catturare h6 quindi è una bellissima casa quindi ora il grande maestro probabilmente dovrà iniziare a controllare questa casa vediamo come decide di giocare no, gioca cavallo h7 e dunque cavallo g6 sfruttando l'inchiudatura questo cavallo non può essere catturato poiché il pedone f7 è inchiodato e in futuro se il bianco lo vorrà con tutto il tempo del mondo potrà catturare questo alfiere è vero che questo alfiere non era l'alfiere più attivo del mondo ma questo alfiere sta facendo un ruolo seppur passivo sta facendo un ruolo è difensore del re quindi l'obiettivo del bianco visto che inizia a avere già un po' di pezzi che si accumulano contro il re avversario l'obiettivo è eliminiamo i difensori e per d4 alfiere per d4 più precisa sarebbe stata il regina per d4 secondo il motore cavallo c5 f4 arriva adesso l'avanzata l'idea è quella di attaccare il re nero visto che è messo lì all'angolino con tutti i pezzi del bianco ricordiamoci sempre che questo pedone è inchiodato e non può permettersi di catturare il cavallo arrivano ora dei cambi il nero ricordiamoci questo principio questo principio sarà ben enunciato anche nel corso di strategia che uscirà prestissimo sull'accademia il corso più completo mai realizzato il principio del sei a corto di spazio stai soffrendo ti trovi in una cattiva posizione sì questa è la posizione del nero cerca di cambiare i pezzi perché cambiando i pezzi vai a diminuire il numero di possibilità tattiche di combinazioni e togli anche gli attaccanti al bianco quindi il bianco aveva e ha tuttora dei fortissimi attaccanti questi alfieri il cavallo eccetera ma dopo questa mossa il nero va a cercare un po' di cambi infatti ora la partita va ovviamente il nero non poteva fare una mossa come questa perché c'era l'intermedia e quindi il bianco se ne usciva con un pezzo in più quindi arrivano una serie di cambi che portano la situazione in un appiattimento se prima c'era un vantaggio chiaro per il bianco adesso questo vantaggio è un po' più difficile da vedere certo ci sono sempre idee di attaccare questo punto debole quindi fare manovre di questo tipo ma la torre può andare in gioco anche lei ma è più difficile adesso è più difficile perché la posizione si è veramente tranquillizzata parecchio in più la torre in a2 è al momento fuori gioco ma vedremo che fra poco il giovane ragazzo da 1892 punti che batte il grande maestro riuscirà a portare questa torre in gioco con una manovra molto interessante f6 per chiudere ed evitare spinte di rottuna donna f4 e arriva cavallo il cavallo il cavallo ora vuole prendersi questa bellissima casa supportata da due propri pedoni e ora arriva una mossa per il bianco che è davvero molto interessante ora che mossa giocheresti dal bianco? prova a mettere anche in pausa il video e dimmi qui che mossa ti ispira è difficile trovare una mossa carina 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 il bianco la trova il motore non è d'accordo ma secondo me è molto carina e la mossa è cavallo in D1 l'idea è quello di fare torre a 3 e portare la torre che non sta facendo nulla all'attacco però sua torre a 3 era antisgamo questa manovra quindi che cosa fa il bambino di 8 anni gioca prima cavallo a D1 affinché poi torre a 3 sia poi più immediata cavallo 5 torre a 3 re in H7 cavallo in F2 e ora donna in F7 e adesso è il momento di attaccare G4 anche se sembra difficile fare questa spinta il nostro eroe porta in attacco tutti i suoi pedoni regina in C4 mossa splendida secondo il motore ora qui ci sono un sacco di pezzi attaccati il pedone C2 l'alfiere la regina è entrata nelle retrovie avversarie ed è molto pericolosa donna D2 stiamo a guardare la situazione difendendo tutto B6 e adesso arriva re in G2 secondo il motore bisognava portare subito la torre in gioco da questo punto ma sono tutte mosse comprensibili i due giocatori si stanno studiando perché ancora non è ben chiara la situazione ovviamente reggi 2 permette al ragazzino dopo H4 G5 di portare la torre in gioco su questo lato infatti è proprio questo il piano che vuole fare e su D5 una mossa che tende ad aprire la posizione poiché sarei d'accordo con me che il re bianco è più scoperto rispetto al re nero quindi il nero ha tutta l'intenzione di aprire la posizione per cercare di dare scacco e scacco matto ma arriva a B3 ora questa regina non ha troppe case io direi che ha due case dove andare una è la casa B4 dove probabilmente verrà un cambio di donne l'altra è la casa in A6 secondo il motore A6 era la casa di rifugio migliore ma arriva donna B4 e questa riporta tutto questa mossa riporta tutto in gioco cambio di donne la torre deve andare via e la posizione è questa qui siamo in un finale siamo in parità di materiale e vediamo come il nostro eroe riuscirà a portarsi a casa la partita cattura di pedone cattura di cavallo doppiatura questa doppiatura potrà essere sfruttata in un finale e attenzione che adesso arriva cavallo per E4 peccato che adesso siamo sì in parità di materiale ma il nero può mangiarsi questo pedone in G4 quindi sembra che tutte le speranze per il giovane la giovane promessa degli scacchi siano finite però il grande maestro non ha visto una cosa che su questa mossa ed è così che va in partita il nero perde all'istante in che modo questa è una tattica strano che un grande maestro si sia preso una mossa di questo tipo come cavallo G5 scacco e alla prossima perde la torre la partita è proseguita per un po' dopo questa svista ora c'è la torre minacciata adesso però la torre si mette dietro i pedoni uno dei modi migliori per attaccare i pedoni avversari è mettersi dietro i pedoni G4 cercando un pochettino il tutto per tutto torre per C6 pedone guadagnato più due punti di materiale di vantaggio netti per il bianco che adesso l'unico ruolo è quello di cercare di portare a promozione questi pedoni torre D7 cercando di entrare in seconda traversa con scacco e attacchi sul pedone ma A5 ora ce ne freghiamo qualsiasi attacco di questo tipo può essere superfluo perché quel pedone andrà a promozione se c'è qualche scacco indubbiamente fa paura ma il re può scappare tranquillamente torre D4 torre per F6 punto esclamativo il ragazzino decide di giocare risk free questa questa dicitura l'ho presa in prestito al grande maestro Andrea Stella e sono totalmente d'accordo con lui in una posizione di così grande vantaggio perché lasciare il cavallo al nostro avversario che magari ci dà scacco ci dà qualche doppio ci mette in difficoltà no torre per F6 tu catturi e qui ora io vado veramente a promozione e vinco A6 torre D8 A7 torre 8 siamo in un finale dove si dice che c'è una torre attiva e una torre passiva nel finale bisognerebbe cercare di avere tutti i pezzi attivi e dopo R per G4 arriva il guadagno di materiale in più il re può essere molto forte entrare in C4 la torre può essere molto forte attaccare tutti i pezzi che vuole la posizione è completamente persa e dopo re in F4 ovviamente questo re sembra arrivare prima in C4 inoltre come dicevamo la torre può tranquillamente rifarsi su questi pedoni quindi se non sarà il pedone A7 andare a promozione sarà quello in F o quello in H partita ben condotta dal bianco svissa clamorosa da parte del grande maestro ma come si dice anche sull'Olimpo sbagliano ragazzi io spero che questa partita vi sia piaciuta fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate credo che abbia condotto la partita molto bene tra l'altro se andiamo a vedere c'è stato un 92% di precisione grande partita giocata contro un avversario temibilissimo mi raccomando rimanete aggiornati perché a marzo uscirà nell'accademia il corso di strategia più completo che sia mai stato realizzato a livello europeo qualcosa di devastante che non potete neanche immaginare vi ringrazio per la visione se il video vi è piaciuto vi invito sempre a commentare mettere un like importantissimo per youtube o se mettete il pollicino e ci vediamo presto qui su Matto Scacco ciao